Ciao a tutti, bentornati alla BC del Football. Oggi voglio guardare al football sotto un'ottica un pochino diversa, ossia attraverso il sindacato. Il sindacato dell'NFL si chiama NFLPA ed è la Players Association, l'associazione dei giocatori. Ogni anno questa associazione fa un sondaggio ai giocatori, anonimo, in cui fa votare i giocatori la propria squadra secondo 11 categorie che andremo a vedere. E poi queste categorie vengono sommate e si fa una lista delle squadre da quella che è considerata la migliore dal punto di vista dei giocatori alla peggiore. Qui non stiamo parlando di migliore squadra nel senso di la squadra che ha gli schemi migliori, la squadra che vince di più, la squadra che è più pronta. Stiamo parlando di altre cose. Infatti adesso vedremo le categorie, capirete. Stiamo parlando più di un punto di vista umano. Quale squadra si avvicina di più al posto ideale in cui i giocatori vorrebbero lavorare? L'anno scorso circa il 60% dei giocatori ha votato quest'anno molti di più perché sono il 77%, quindi abbiamo una grande quantità dei giocatori che hanno portato alla classifica finale. Allora io vi metto la classifica di fianco a me. È davvero enorme, quindi non solo non ci stanno tutte 34, 32 le squadre, ma non credo che ci stanno neanche le 11 categorie. Almeno per come la sto vedendo io sicuramente non ci stanno. Magari cerco per vedere se c'è uno schema fatto meglio. Comunque le 11 categorie, come vedrete, sono molto dal punto di vista stile di lavoro. Il trattamento delle famiglie, ossia per esempio se le famiglie possono viaggiare oppure per quanto riguarda l'asilo, alcune squadre ce l'hanno e altre un pochino meno. Il cibo ovviamente, il nutrizionista. Poi c'è tutta la parte relativa agli edifici, cioè come la locker room, come la training room, come lo staff, ossia quindi come c'è il training staff, come c'è la weight room, eccetera, ci sono gli strength coach, quindi abbiamo sia gli edifici, sia le persone, training staff, strength coach e abbiamo anche un voto per gli head coach e per i proprietari. Ora anche questo non è tanto dal punto di vista di quale proprietario mi porta meglio a vincere, quale coach mi porta meglio a vincere, ma sempre da un punto di vista di come mi sento insieme al mio coach, mi sento rappresentato, mi sento capito, mi sento importante, tutte quelle cose un po' fuori dallo schema di come parliamo di solito dell'NFL. In particolare vediamo che molte squadre sono molto convinte sul loro coach, ci sono dei coach che hanno ricevuto dei voti molto alti, ci sono dei proprietari che hanno ricevuto dei voti molto bassi. Nel complesso secondo me una cosa che possiamo vedere è che i coach tendenzialmente hanno ricevuto tutti i voti alti, non c'è nessuna insufficienza, nessuna F, c'è soltanto un'insufficienza, c'è soltanto una D dei Raiders e vabbè essendo che quel coach è stato licenziato non ha neanche senso parlarne troppo. Vi ricordo che questi voti sono stati mandati dai giocatori tra agosto e novembre, quindi non parla della situazione attuale ma parla dell'anno che è passato. Per quanto riguarda invece i proprietari ci sono davvero tanti voti bassi e ora che abbiamo visto più o meno di cosa si tratta voglio portare l'attenzione a due squadre in positivo perché ci sono due squadre che sono nettamente superiori come media di voti rispetto alle altre squadre e sono i Miami Dolphins e i Minnesota Vikings, quindi le due M. Tutte e due le squadre hanno ricevuto praticamente soltanto A dai loro giocatori e entrambi i giocatori delle squadre sono contentissimi di stare lì, dicono che il cibo è buono, che i coach li capisce, che il proprietario si impegna per tenere gli edifici sempre al massimo e quindi queste sono le due squadre che sono diciamo contente. Questo è molto importante perché secondo me un giocatore free agent considera queste votazioni quando deve scegliere una nuova squadra. Un proprietario che ha avuto una F renderà un contratto molto meno appetibile rispetto a un proprietario che ha avuto una A e secondo me è un lato dei contratti che non si considera spesso. Quindi queste sono le due squadre che sono nettamente superiori alle altre. Ci sono poi delle squadre che si sono distinte in modo negativo ed è brutto da dire ma sono le stesse che si sono mostrate negativo gli anni scorsi, ossia la peggiore in generale, sorpresa sorpresa, abbiamo i commanders. I commanders, i giocatori hanno detto che ci sono problemi di pulizia nell'edificio, ci sono problemi di fogne nell'edificio, a volte non c'è neanche l'acqua calda nelle docce, quindi non ci sorprendiamo nello scoprire che i commanders hanno tutti questi problemi anche quest'anno, però hanno un nuovo proprietario e questi nuovi proprietari sono spinti a migliorare, quindi hanno anche già detto che ci sono molte migliorie apportate allo stadio e a tutti i vari edifici in cui i giocatori si alleneranno, quindi tutto questo va migliorando, diciamo, infatti anche la parte dei proprietari comunque ha ricevuto una B. Si vede che hanno fiducia nell'andare avanti perché hanno ricevuto davvero tantissime F i commanders. Poi, trentunesimo, questo sorprenderà molti di voi che non hanno mai sentito parlare di questa tabella, c'è Kansas City. Giustamente i giocatori pensano che, considerati tutti i loro sforzi e i titoli portati avanti in questi ultimi anni, meritino uno stadio all'altezza, meritano delle facility all'altezza e invece non hanno niente. Hanno ricevuto tantissime F i Kansas City Chiefs, l'unico, diciamo, gioiello è dato da Andy Reid. Andy Reid ha ricevuto una A più come media, quindi un voto perfetto, mentre il proprietario ha ricevuto una F. Meno, di meno non si poteva avere, chiaramente. Ma, come vediamo nella tabella, la locker room ha ottenuto una F, il training staff ha ricevuto una F, il nutrizionista ha ricevuto una F, il trattamento delle famiglie ha ricevuto una D, cioè nel complesso il proprietario ha anche parlato di questo, ha detto che sanno che ci sono da fare delle migliorie all'interno degli edifici, che è già tutto in conto, però vediamo che ci sono anche altri problemi a partire dalla scelta delle persone che lavorano insieme ai giocatori, tolto ovviamente Andy Reid che ha ricevuto A più, proprio una scelta del personale relativo all'allenamento. Trentesima, invece, come squadra, Chargers. Non è una gran sorpresa per quanto riguarda i Chargers. I Chargers hanno avuto una F nel trattamento delle famiglie. La squadra simile sono i Bengals che hanno dato una F meno al trattamento delle famiglie e, tra l'altro, sorprendentemente, entrambe queste squadre hanno anche i voti più bassi per quanto riguarda il cibo. Il cibo è stato valutato sia come qualità del cibo, sia come freschezza del cibo e entrambe le squadre hanno dato dei voti bassissimi al loro cibo. I Chargers hanno una F e i Bengals hanno una F meno. I Chargers si sono lamentati del fatto che durante le partite l'asilo per i giocatori che lasciano i figli è a pagamento, che sembra una cosa stupida, no? Con tutti quelli che paghi i giocatori, perché far pagare l'asilo invece per i giocatori è a pagamento? Questi sono problemi che però si erano già riscontrati l'anno scorso e, in realtà, quest'idea della tabella dell'NFLPA è molto nuova e, secondo me, è molto utile. È molto utile perché questo porta molto il focus sulle squadre, sui punti in cui devono migliorare. Pongo l'accento su un'ultima cosa. Per quanto riguarda i Patriots, i Patriots non hanno ottenuto dei buoni voti, ma, in particolare, per quanto riguarda la Training Room, hanno ottenuto una... la Wait Room, scusate, hanno ottenuto una F. I giocatori hanno detto che la la sala pesi è peggiore rispetto a una sala pesi privata a cui tu ti puoi iscrivere e andarti ad allenare là. Quindi stiamo parlando del fatto che i Patriots hanno una sala pesi che è peggiore rispetto a una palestra, anche una bella palestra ve lo concedo, però in teoria dovrebbero esserci livelli diversi. Se i giocatori dicono posso andare io privatamente a un'altra palestra e ho degli esercizi migliori, posso fare degli esercizi migliori, ho più possibilità, adesso non so esattamente che cosa ci sia in una sala pesi, però questo pone molto l'accento su questo. Bene, volevo soltanto fare un video su questa tabella perché secondo me è molto importante e credo che non abbia ricevuto una gran attenzione, quindi spero che il video vi sia interessato, ci vedremo con il prossimo video che in realtà registro appena finisco questo e sarà sul mercato QB in questa stagione, quindi un video completamente diverso, parliamo di attualità.